Per una logistica di qualità è il titolo della tavola rotonda che ha portato nell'aula magna dell'Istituto Isi Marconi varie realtà coinvolte, dalla Prefettura all'Inail, da Conf Cooperative all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dall'Azienda Sanitaria di Piacenza alle associazioni industriali fino alle organizzazioni sindacali. Salute, tutela dei lavoratori e normative sono le vie per raggiungere gli obiettivi. Vogliamo affrontare il comparto della logistica a livello regionale. L'obiettivo principale è quello della tutela della salute. La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori non può essere digiunta dalla regolarità del rapporto di lavoro perché noi oggi assistiamo ad un comparto che sì ha problemi di salute ma soprattutto ha dei grossi problemi di dignità. Altro aspetto importante è la movimentazione delle merci affidata ancora in massima parte al trasporto su ruote con le conseguenze di inquinamento, traffico e rumore. Oggi a Piacenza il 38% delle merci che arrivano all'interno della logistica viene movimentato prevalentemente dal porto di La Spezia attraverso il ferro cioè la ferrovia. Una percentuale destinata a crescere grazie a un progetto di implementazione affidato alle ferrovie svizzere ma non c'è solo il treno come mezzo di trasporto a impatto ambientale zero. In un futuro che non sia tanto lontano il PO ci sta aiutando. I lavori fatti sulla conca che ci ha permesso di superare lo sbarramento di isola Serafini ci permette di far arrivare le merci da Piacenza al porto di Ravenna. Presenti al convegno moderato dal direttore di telelibertà Nicoletta Bracchi anche le massime autorità delle istituzioni e delle forze dell'ordine cittadine.